Si apre una nuova era nelle relazioni tra Cuba e l'Unione Europea. Ha firmato lunedì a Bruxelles uno storico accordo politico, il primo tra l'isola e 28, che porrà fine alle politiche restrittive adottate verso Cuba dal 1996. Un passo importante, come ha spiegato il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini. Cuba sta cambiando profondamente e l'Unione Europea sta accompagnando questo processo come un amico al lato del governo e del popolo cubano. È un'opportunità comune per accrescere lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale, per rafforzare la democrazia e il rispetto dei diritti umani. L'Europa ha un ruolo da protagonista nella transizione dell'economia e della società cubana, nonostante il recente riavvicinamento tra gli Stati Uniti e l'Havana pesa ancora sull'isola l'embargo economico americano, come ha ricordato il ministro degli affari esteri. Per fortuna le relazioni tra Cuba e l'Unione Europea non passano attraverso Washington. Sono convinto che si tratti di un'opportunità promettente per continuare a sviluppare i legami tra l'Europa e Cuba, nonostante sia necessaria la rimozione di alcuni ostacoli, in particolare di tipo finanziario, in quanto persiste l'embargo contro Cuba. Finora Cuba era l'unico paese latino-americano con cui l'Europa non aveva un dialogo politico. Dopo la morte di Fidel Castro si è velocizzato il processo di apertura del paese verso modelli di democrazia e rispetto dei diritti umani, due punti importanti contemplati nell'accordo firmato lunedì.